11 luglio 2014 siamo qui dove c'era uno spazio verde per i bambini dietro alla chiesa il confine col circolo bocciofilo san felice la chiesa la parrocchia di san felice da cantalice qui metro c dovrà rimettere a posto l'area attualmente l'area è occupata da senza fissa di mura con tante di coperte di di alloggi per la notte sono stati portati via i giochi ecco i giochi si trovano qui in questo luogo sono stati portati via credo che debbano essere rimpiazzati tutte le coperture sono degli alloggi di fortuna sono ad asciugare perché ieri il centro c'era c'è stata una bomba d'acqua ecco qua dice uno che dorme